Il Museo di Arte Contemporanea di Roma, che è nato ed inaugurato nel 2010 su una committenza della sovrintendenza del Comune di Roma, è sicuramente un gioiello, almeno quello riteniamo sia per la città, che si è insinuato nel territorio urbano con una grandissima forza irruttiva e rivoluzionaria, coniugando il vecchio e il nuovo con una realtà di partecipazione del territorio e del quartiere al punto che la terrazza del museo è la terrazza sulla quale si affaccia ben 4 edifici del quartiere stesso, che partecipano della vita del museo e le cui facciate sono state anche oggetto di interventi di street art con la partecipazione dei cittadini e a noi ci sembra che questa idea che si era avuta nella committenza che avesse la sua forza irruttiva, rivoluzionaria, ma che allo stesso tempo costituisse questo rapporto bionivoco tra il vecchio e il nuovo sia perfettamente riuscito. Grazie.